Anche il turismo d'alta quota, come quello di San Severino Lucano, in una provincia di Potenza, cambia per via dell'emergenza Covid-19. Il flusso di prossimità a quello italiano supera quello straniero, si tiene botta e nella frattempo si pensa a come innovarsi e ci si adegua ai cambiamenti. Da quando abbiamo iniziato a lavorare si sta lavorando bene con le varie restrizioni che ci sono, però noi ci facciamo rispettare queste leggi e cerchiamo di farle rispettare sempre. Sono cambiate tante cose, ci siamo adeguati, abbiamo aggiornato la nostra struttura, siamo sempre in evoluzione, cerchiamo sempre di dare il massimo e lo faremo fino a quando possiamo. Noi di Innovazioni ogni anno ci innoviamo anno dopo anno per crescere sempre di più e per dare il meglio per i nostri ospiti. Ad incoraggiare le attività turistiche e iniziative come l'Estate Sanseverese, promossa da Proloquio e Amministrazione Comunale, ma anche il Polino Music Festival. Poi quest'anno c'è questo Polino Music Festival che abbiamo organizzato, ha organizzato il comune con Nico Ferri e con noi, la nostra struttura, sperando che vada bene, ma ne siamo fiduciosi. Ed ora il pensiero va ai prossimi mesi, quelli più freddi. Dall'autunno non è semplice aspettarsi qualcosa, è sempre per questo problema che c'è, però noi siamo fiduciosi e speriamo di lavorare sempre di più e meglio possibile.